Rimpasso totale o parziale al lauree e conto alla rovescia per le scelte del sindaco Gaetano Mitidieri, una verifica di maggioranza per ormai da mesi per la compagine che governa la cittadina del Beato Lentini e che vede le forze a sostegno dell'esecutivo ancora in una fase dibattimentale. Giovedì si terrà un nuovo confronto tra i segretari dei partiti che sostengono il primo cittadino e gli stessi rappresentanti istituzionali. Un momento delicato per la politica lauriota, come spiegano Antonio Rossino, segretario del Partito Socialista Italiano, forza che sorregge la maggioranza politica al governo dell'Ente e il sindaco Mitidieri, espressione del Partito Democratico. Rilanciare l'amministrazione su temi ed argomenti che oggi sono diventati anche più cogenti, dalla povertà alla disoccupazione, all'emergenza sociale. Credo che oggi questi argomenti debbano essere al primo posto nell'agenda di lavoro. Speriamo di poter avere gli strumenti giusti per poter dare le risposte che in questo momento i cittadini e i paesi meritano. Stiamo facendo degli incontri come segretari insieme al sindaco proprio per trovare la soluzione migliore. L'idea che sta passando è quella di un cambiamento dell'aggiunta nella sua totalità. Io credo che la cosa importante sia quella di mettere a punto la situazione. Poi non è escluso che ci possa essere un rimpasto parziale, non un azzeramento completo.